Let's go bitches, gameplay live, tutti contro tutti, speriamo si sbrighi a partire, dai! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, Morando! Sì! 2014, non è vero, questo gameplay è del primo gennaio, a meno che non c'è un delay di 24 ore, sarebbe impossibile il capodanno con il timer di tutti i contenuti, comunque, stiamo facendo queste stronzate, gameplay live, che state vedendo? Sto giocando con una delle armi che ho usato in un mio recente video di power, non sei power per se, scusate, no dai, ti supplico no, di classi overpower, comunque, questo live è un piccolo live per rimanere in contatto con voi che, almeno, non faccio un live da un sacco di tempo, non so per quale motivo non faccio mai live, cioè li faccio ogni tanto, ma vabbè, comunque, oltre a questo, passato capodanno e sto giocando a Ghost, vuol dire che quindi mi sono talmente distrutto che non capisco il motivo per cui sto giocando a Ghost, perché è vero, cioè, per quale motivo sto giocando a Ghost? Cioè, no, più senso, forse ieri mi sono distrutto talmente tanto che non ci penso più a quanto può far schifo il gioco, questo lagga, dai, io ti prego, vaffanculo, stavo a fare il suca suca sul cadavere, comunque, e voi che cazzo avete fatto a capodanno? Io veramente mi sono devastato, primo a una festa e dopo a casa di un amico, quindi è proprio, non lo so, cioè, ti distruggi da una parte e ti distruggi pure dall'altra, non finisci più. Comunque, per il resto, sì, mi interesserebbe sapere come l'avete passato, perché magari esce fuori qualcosa di veramente divertente da leggere, con qualcosa che vi è successo, a me, praticamente niente, cioè, tutto normale, a parte le solite cose da effetto distruzione. Comunque, questo è il primo, domani, cioè, oggi, state vedendo il video che ho fatto ieri, sì, 2008, e ora parliamo un pochino dei buoni propositi del canale di Power, questo cosa cazzo vuole, vai via? Allora, praticamente, buoni propositi del canale. Allora, sicuramente, aumentare la qualità dei gameplay, dei video che faccio, cercare di fare serie ancora più interessanti, gameplay ancora più belli, montaggi ancora più fighi, fare praticamente delle cose molto più professionali, se riesco, vaffan bene! Vida morì, mamma mia, ho spaccato la faccia, quindi cercare di fare cose molto più professionali, eccola là, sempre da dietro, migliorare la qualità video, qualità sonora, audio, gameplay, tutto praticamente, eeeh, ancora lui, col coltello, sempre lui! Comando, eeeh, questi sono i buoni propositi del canale Power TV, di cosa fare? Comunque, il coltello qui viene proprio abusato dai giocatori, perché è assurdo, è un qualcosa di laser, proprio. Comunque, oltre a questo, spero non vi siete annoiando durante questo, diciamo, questo piccolo live che ho fatto, eeeh, mi piacerebbe sapere se pure voi avete fatto dei buoni propositi, non lo so, per lo studio, ed hai detto, smetto, che ne so, di studio, no, smetto di bere, che ne so, basta sigarette, che cazzo ne so? Vorrei sapere se qualcuno di voi ci ha mai pensato a fare queste cose per l'anno nuovo, tipo andare in palestra, ecco, vedi una cosa, forse lo dovrei fare andare in palestra, perché già sono macro e peso poco, sono tipo sottopeso, se vado in palestra, almeno divento pure grosso, beh, non sarebbe male come cosa. Comunque, questo ti l'amo, no, sempre lui col pompa, eh, bella gente che gira su COD, ora capisco perché l'avevo abbandonato per qualche giorno, cioè, cioè, regà, guardavo a sinistra e il coltello mi ha fatto girare di 180 gradi, va bene così, è tutto apposta, è COD, ragazzi, è COD. Comunque, sto facendo un gameplay abbastanza sciallo, cioè, voglio solamente intrattenervi e spiegarvi delle cose. Comunque, come avete visto, COD piano piano, non è che lo sto accantonando, cioè, ci giocherò sempre, farò sempre gameplay, serie e così via, ma quello che vi voglio dire è che quest'anno, secondo me, questo qui è un gioco che dopo due mesi già stufa, perché dopo due mesi che gameplay vuoi portare, che cosa puoi far vedere? Ho scoperto tutto quello che si poteva scoprire nel primo mese di uscita, ho fatto tutte le cose più fighe possibili sempre nel primo mese di uscita. Il gioco non è che avrà altre cose in più, che cosa verranno fatti? Qualche DLC in cui ci saranno mappe, quel famoso DLC Esports che doveva essere fatto è stato, praticamente accantonato, non si sa che fine abbia fatto, sembra che l'Infinity World gliene freghi ancora di meno di chi abbia acquistato il gioco, quindi mi sembra inutile continuare su un gioco per 365 giorni all'anno, penso che pure voi rompiate le palle abbastanza facilmente, sto andando solo di coltello, cioè fra un po' potrei fare una game solo di coltello, ancora, dai, nartro? No, strano, comunque potrei fare una game solamente di coltello a sto punto in sta mappa di merda, comunque, cioè io penso pure voi mettetevi nei miei panni, la partita è finita, quindi ho finito i commenti di fare 365 video su questo gioco che sta finendo, dai sembra un po' una presa in giro, guardate com'è, cioè sta praticamente collassando su se stesso, l'interesse che richiede questo gioco è sempre inferiore, non ci sono video interessanti da fare o cose da scoprire, Battlefield 4 invece per me sta diventando veramente un nuovo campo, mi sto affacciando a Battlefield e mi sto divertendo tantissimo, ho iniziato una nuova serie sulle armi, che mi invito a vedere, e tra l'altro farò anche altre nuove serie, cercherò di vedere se esiste del competitive su console, quindi vi farò sapere, bella bitches, grazie per essere stati sintonizzati, power on air, ora off.